Il prossimo brano che andiamo a fare qua in questo parcheggio fantastico con voi che state cenando spero che vi piaccia la cena, vi è piaciuta noi, un applauso a Greta e a voi e a Mattia il prossimo brano lo voglio dedicare a una coppia perché a distanza mi ha richiesto questo video e dato che hanno fatto da poco l'anniversario, alleluia Facciamo a regge? No, sentimentale Ehi, mi metà Mi metà non si può lavorare nel ferimento 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 Grazie.